Hola a tutti ragazzi è il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovo video molto importante perché ragazzi devo parlare di una cosa fondamentale Il video durerà ben poco ragazzi lo sto arriccando velocemente perché voglio arricarvi lo stesso stasera E' un video importante che devo avere risposta immediatamente per un motivo ragazzi Il server Pryson scadrà l'1.12, oddio che sto a D, scadrà il 21 luglio Quindi il 21 luglio ragazzi devo rinnovarlo Siccome il costo si aggira intorno ai 20 euro è vero che i soldi li abbiamo fatti col VIP eccetera Però volevo farvi una domanda fondamentale Ragazzi volete che il server venga portato avanti? Se si votate in descrizione ragazzi trovate un pool Che cos'è un pool? Una votazione in cui decidete se porterà avanti il server oppure no Poi ci sono anche altre risposte e vedremo Voglio avere questa risposta entro il 21 Quindi voglio caricarvi immediatamente questi video veloce veloce appena uscirà questa sera Perché è davvero importante Come detto ragazzi il server molti hanno comprato dei VIP hanno comprato le key hanno investito per portarlo avanti Ragazzi ma una cosa dovete capire Nessuno entra Nessuno entra partendo dai VIP partendo da coloro che hanno shoppato le key non entra più nessuno Se entra qualcuno entra ogni morte di papa come si suol dire Molti diranno Luke ma io entro sì ma tu saranno uno due massimo tre persone Però non entra più nessuno quindi ragazzi fatemi sapere votando lo stro pool in descrizione Se volete che il server vada avanti Detto questo non so che vorrei uscire a questo video Mi raccomando lasciate un bel like Commentate il video Condividetelo ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi